villa dell'ombrello bianco è una villa abbandonata dimenticata tra le sue colline il suo primo proprietario fu un agricoltore che svolse diversi lavori nel nord italia nel corso della sua vita però l'agricoltore ebbe due figli il primo era un semplice proprietario di una ditta di costruzioni stradali l'altro invece svolgeva il lavoro di geometra in alcune città del milanese la villa poi fu evacuata per inagibilità della struttura nel 1996 e da quel tempo nessuno fece più ritorno la villa ormai sta cadendo a pezzi quindi ragazzi se la riconoscete e avete la posizione esatta state molto ma veramente molto attenti ragazzi è iniziata l'esplorazione siamo in mezzo ai campi nel vero parola questa è tutta la villa ragazzi forse lì l'entrata la già intravedo da qua questa è tutta la villa quindi direi di entrare perché perché in teoria merita molto sta villa l'ebita qua ragazzi questa è l'entrata io sono morisse benvenuti a tutti in questo nuovo video ovviamente esplorazione oggi 15 gennaio del 2024 ovviamente siamo qui in esplorazione per voi a villa dell'ombrello bianco questo nome viene assegnato proprio perché c'è dentro all'interno come abbiamo già visto prima un ombrello bianco però voglio solo farvi vedere una cosa che ho già notato e quindi sta per crollare tutto non so se si vede ma questo palo qui ragazze sta reggendo tutto il soffitto quindi oggi direi di muoverci con molta ma molta prudenza soprattutto ai piani superiori entrambi subito nell'apri posti occhio a non muovere queste guarda andiamo a questa villa questa villa destinata al crollare tra poco guarda se oggi non ci crolla qualcosa tutto porca troia invece c'è un normale cammino umile con chi venito mussolini si scherza si scherza ma che villa strana no mi sa proprio di sì ma stiamo attenti sì ma che villa un po strana c'è guarda qua c'è tu appena non ti sembra la viola si guarda qua mini soggiorno la mini borsetta per i piccoli che vabbè sono sulla strada la stanza principale ragazzi invece c'è questa macchinina qua carina la tua macchina ecco perché la villa si chiama così per questa stanza qua c'è per questa stanza io voglio proprio sapere colui che la chiamata così voglio saperlo scrivetelo nei commenti se sapete chi è almeno inventate un nome innovativo poca analizzata qua e meno male adesso è rimasto inizio massimo questo quanto erano alti no forse era più alto ma col tempo si è lasciato cadere tipo profili è rimasto è bello oh cazzo si è deve stare molto no ma cazzo ma si finisamo attenti eh guardiamo bene nel dettaglio le cose principali al primo piano che meglio prima che oh cazzo oh mamma bello eh grappa friulana sì sì bello questo inizio e qua ci sono anche le foto di guerra ora militare tipo il nonno che era un militare se no era proprio uno sbirro e no vada il carabiniere bene però sti foto qua qua niente da che ora come anche questi cervi qua eh no saranno tutti vuoti sono marci poi quindi stiamo attenti bello anche il dettaglio ragazzi buone tazzine non so se vedete ragazzi cosa sono rimasti tipo una dispensa questa che tenevano tutte le conserve posti però ste scale questa villa però è destinata al crollo la stanza bella bella questa eh questa cucina qua molto ma si qui c'è anche un cappotto eh non so se l'hai visto un cappotto qua è rimasto ma anche sta tovaglia cioè sta tovaglia un po' apparecchiata ecco l'avranno apparecchiato degli urbexer avranno apparecchiato apposta per fare la foto qua c'è il forno a legna eh questo qua in teoria adesso arrivo qua c'è il forno facciamo un po' vedere cosa per pulire le scarpe pieno di zeppo di roba ragazzi e questa era la cucina e questa è la cucina e questa è la cucina si apre ok si apre ok si apre ok si apre occhio dove camminiamo di là si va bravo ste tende anni proprio 50 queste è proprio questi anni proprio vecchi guarda qua la foto dove sono sposati belle eh guarda come erano giovani pazzesco tutto ciò guarda qua questa libreria cosa c'è cosa abbiamo fatto cos'è occhio dove cammini eh oh mamma no no guarda lì guarda lì guarda lì non entrare eh guardate lì ragazzi c'è una cazzo di pendenza ma clamorose eh lì se ci va qualcuno cade va giù quindi non andiamo lì sì si vede che sono passati i ladri ma i vandali poco strano eh hanno rubato tutti i vestiti di valore ovviamente sperduto nel nulla veramente ragazzi siamo sperduti cioè senza abitanti ma già tanto che ne arriva 200 cioè ragazzi se non ci avessero passato la coordinata non saremmo mai venuti qua guarda qua i vestiti comunque tenuti abbastanza bene guarda questa pelliccia ormai proste si è un po' degradata però e qua a letto credo non l'hanno portato direttamente via qui qua ci sono varie foto eh se lo sia servito a qualcuno bello questo eh merda si vede sempre il paese via dei cowboy forse ci stava anche di più eh un po' o villa o villa del militare no? è perché giù abbiamo visto delle foto che comunque facevano il militare quindi è andato in guerra ci sono le foto dell'esercito italiano ma non è anche troppo recenti forse 90 non lo so non so quando è stata abbandonata vedi gli stili cinesi ancora come l'ombrello sì forse hanno bianco no? erano colori quelle giù erano a colore ma con il manichino di verde un po' sforescente qua ragazzi sono rimasti vestiti un cappello specchio e decorazioni natalizie credo c'è una sigaretta schifo sigaretta e accendilo come? sì sì adesso voglio vedere se l'accendilo va no che schifo un po' vuoi anche una caramella sì quasi quasi ci avrà avuto la muffa su ok ragazzi continuiamo pensavo una cosa dentro lì pensavo che fosse una cosa un po' nazista ecco si può dire tanto è rimasto un minimo qua si sente il vuoto cerco di guardare delle mini scarpette proprio stile molto antico e varie cose qua una statua una sorta di manichino con un cappello e una valigetta e c'è su questo continuiamo anche se dobbiamo stare attenti niente di che qua su qualche bagno provo ad entrare anche se stiamo solo attenti prima che non crolli tutto sei vero rimasto intatto ma anche quello ma è nuovo quello prova una dose prova una dose di xan 2000 liquido concentrato queste cose per fare il bucolato per lavare i panni ok in teoria magari adesso mi sbaglio o abbiamo finito o c'è un'altra parte che non abbiamo visto però credo che abbiamo finito ok ragazzi stiamo uscendo definitivamente dalla villa dell'ombrello bianco e adesso andremo nel nostro parcheggio privato perché se non lo sapete è il nostro cortile però aspetta un attimo questa parte qua non l'abbiamo fatta perché è chiusa è la parte murata da su ma se magari troviamo un accesso qui si ma lì abbiamo provato ragazzi qua è chiusa sono curioso si sono umori del paesino magari sarà stata abbandonata perché ovviamente i proprietari sono morti nessuno ha più un interesse di questa villa e quindi non l'ho lasciata ormai il degrado qua è tutta degradata comunque ora entriamo in macchina perché abbiamo parcheggiato ovviamente dinanzi alla villa il nostro il nostro nuovo parcheggio quindi entriamo in macchina beh in effetti stiamo qua non è tanto ormai ragazzi ora entriamo in macchina facciamo le votazioni faremo le votazioni ma ve lo dico con questo bel tramonto perché cosa quello abbandonato questo non credo sia abbandonato direi di salire in macchina e fare le votazioni e direi di andare a provare se c'è qualcuno magari ci cace via ma dove che sei da 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 allora ragazzi siamo in macchina faremo le votazioni così strano eh strano vederlo così bella inquadratura da rifare passiamo le votazioni chip di pure la tua ma guarda una bella villa non mi ha fatto impazzire come vuoto di darei un bel set si sette pulito si anche per me sette no sette pulito anche per me perché la villa comunque è bella è molto pericolante quindi meglio che se la riconoscete se avete la posizione state attenti non osate il secondo piano non lo so forse qualche pagina su instagram l'ha fatta perché ormai questa villa è tra gli urbex quad poi conosco un po' di persone che hanno la coordinata anche del Piemonte hanno la coordinata quindi se la riconoscete ci venite state attenti ragazzi spero che vi sia piaciuto il boss purtroppo non c'è qua dietro però vabbè spero che vi sia piaciuto come al solito vi ricordo un bel like per sostenerci mi raccomando andate a seguire la pagina urbex di instagram seguiteci su cricola seguite da tutte le parti noi ci becchiamo di un nuovo video esplorazione e mi raccomando iscrivetevi perché non so quando uscirà questo video ma road to 2000 road to 2k a a Grazie a tutti